Il treno regionale veloce, 20-23, di Trenitalia, delle ore 22.15, per Torino Porta Nuova, 2023, è in partenza dal binario 3. Ferma a, Roffiera Milano, Magenta, Novara, Vercelli, Santi A, Chivasso, Torino Porta Susa. Buonasera. Benvenuti a bordo del treno, regionale veloce, 20-23. Il treno arriverà a Torino Porta Nuova, alle ore 00.04. Trenitalia vi augura buon viaggio.